Come avvenne? di Arthur Conan Doyle. Era una medium scrivente. Questo è ciò che scrisse. Sono capace di rammentare più distintamente alcune cose di quella sera, mentre altre sono come taluni vaghi sogni infranti. Questo è quello che rende tanto difficile raccontare una storia logicamente connessa. Non ho idea ora di cosa mi avesse portato a Londra e mi avesse ricondotto indietro così tardi. Semplicemente si confonde con tutte le altre mie visite a Londra, ma dal momento in cui sono uscito dalla piccola stazione di paese tutto è straordinariamente vivido. Posso riviverlo ogni istante. Ricordo così bene di aver camminato lungo la banchina e di aver guardato alla fine l'orologio illuminato che mi diceva che erano le 11 e 30. Ricordo anche il mio chiedermi se sarei potuto ritornare a casa prima di mezzanotte. Poi ricordo una grande automobile, con i suoi fari abbaglianti e con lo scintillio del lucido ottone che mi attendeva fuori. Era la mia nuova robur da 30 cavalli consegnata quello stesso giorno. Ricordo anche di aver chiesto a Perkins, il mio autista, come era andata e il suo dirmi che pensava fosse eccellente. La proverò io stesso, dissi e montai al posto di guida. Le marce non sono uguali, disse egli. Forse sarebbe meglio se guidassi io. No, desidererei provarla, dissi. E così iniziamo il nostro viaggio di cinque miglia verso casa. La mia vecchia auto aveva le marce che erano come sempre nell'incavo di una barra. In quest'auto la leva del cambio passa attraverso un alloggio per salire a quelle superiori. Non è stata difficile da padroneggiare e presto ho pensato di aver capito. È stato sciocco senza dubbio iniziare a imparare un nuovo sistema al buio, ma spesso si fanno cose sciocche e non se ne deve sempre pagare il prezzo pieno. Andai molto bene finché non giunsi a Claystall Hill. È una delle peggiori colline in Inghilterra, lunga un miglio e mezzo e con un'inclinazione di 1 a 6 in alcuni punti, con tre curve decisamente a gomito. Il cancello del mio parco si trova proprio ai piedi della strada principale per Londra. Eravamo appena sopra la cima di questa collina, dove la pendenza è più ripida, quando è iniziato il guaio. Andavo alla massima velocità e volevo metterla in libertà, ma è rimasta bloccata tra le marce e ho dovuto riportarla di nuovo al massimo. A questo punto stava andando molto bene, così ho premuto entrambi i freni e uno dopo l'altro cedettero. Non mi preoccupai troppo quando sentii il freno a pedale scattare, ma quando impiegai tutto il mio peso sul freno laterale e la leva si mise al massimo senza presa, ciò mi fece sudare freddo. A quel punto stavamo percorrendo abbastanza rapidamente il pendio. I fari erano luminosi e la condussi benissimo oltre la prima curva. Poi facemmo la seconda, sebbene ci fosse una rasatura ravvicinata per il fossato. Infine c'era un miglio di rettilineo con la terza curva sotto di esso e poi il cancello del parco. Se avessi potuto rifugiarmi in quel porto tutto sarebbe andato bene perché la pendenza fino alla casa l'avrebbe portata a rallentare. Perkins si comportò magnificamente. Vorrei che si sapesse. Era perfettamente calmo e vigile. Avevo pensato all'inizio di prendere l'argine ed egli aveva letto la mia intenzione. Non lo farei, sir, disse. A questa velocità deve andare oltre e dovremmo averlo sopra di noi. Certo che aveva ragione. Raggiunse l'interruttore elettrico e lo spense, quindi eravamo a folle. Ma stavamo ancora correndo a una velocità spaventosa. Egli posò le mani sul volante. La terrò stabile, disse. Se avete il coraggio di saltare e di rischiare non potremo mai aggirare quella curva. Meglio saltare, sir. No, disse io. Arriverò fino alla fine. Puoi saltare tu se vuoi. Arriverò fino alla fine con voi, sir, disse. Se fosse stata la vecchia automobile avrei potuto bloccare la leva del cambio nella retromarcia e vedere cosa sarebbe successo. Immagino che si sarebbe tolta o rotta in qualche modo, ma sarebbe stata una possibilità. Stando così le cose, ero impotente. Perkins cercò di scalare, ma non si poteva fare andando a quella velocità. Le ruote ronzavano come un forte vento e la carrozzeria scricchiolava e gemeva per lo sforzo. Ma i fari erano luminosi e si poteva sterzare di un pollice. Ricordo di aver pensato che spettacolo terribile e pur maestoso dovevamo apparire a chiunque ci avesse incontrato. Era una strada stretta e noi costituivamo una possente rovina fragorosa e meravigliosa per chiunque si fosse trovato sul nostro cammino. Girammo la curva con una ruota a tre piedi dal fossato. Pensai che per noi fosse sicuramente finita, ma dopo lo sconcerto di un momento, essa si raddrizzò e sfrecciò in avanti. Quella era la terza e ultima curva. Adesso c'era solo il cancello del parco. Era di fronte a noi, ma per fortuna non di fronte a noi direttamente. Era a circa venti yard e a sinistra sulla strada principale in cui correvamo. Forse avrei potuto farcela, ma mi aspettavo che il cambio fosse stato frenato quando correvamo sul fossato. Il volante non girava facilmente. Uscimmo dalla corsia. Vidi il cancello aperto sulla sinistra. Ruotai il volante con tutta la forza dei miei polsi. Perkins e io usammo anche i nostri corpi e poi l'istante successivo, andando a 50 miglia all'ora, la mia ruota destra colpì completamente il pilastro destro del mio cancello. Udì lo schianto. Fui conscio di balzare in aria. E poi... E poi... Quando ripresi coscienza, ero tra i cespugli all'ombra delle querce sul lato del capanno del guardiano nel vialetto. Un uomo era in piedi accanto a me. All'inizio pensai fosse Perkins, ma quando guardai di nuovo vidi che era Stanley, un tipo che avevo conosciuto al college qualche anno prima e verso il quale provavo un affetto davvero genuino. C'era sempre stato nei miei riguardi qualcosa di particolarmente cordiale nel modo di fare di Stanley, ed ero orgoglioso di pensare di avere avuto un'influenza simile su di lui. In quel momento fui sorpreso di vederlo, ma ero come in un sogno, stordito e scosso e abbastanza preparato a prendere le cose come le avevo trovate, senza metterle in discussione. «Che schianto!» dissi. «Buon Dio, che schianto terribile!» Egli annui con la testa e persino nell'oscurità potei vedere che stava sorridendo con quel sorriso gentile e malinconico che associavo a lui. Non ero del tutto capace di muovermi. In effetti non avevo alcun desiderio di provare a muovermi, ma i miei sensi erano estremamente vigili. Vidi il rottame dell'automobile illuminato dalle lanterne in movimento. Vidi il piccolo gruppo di persone e sentii le voci sommesse. C'erano il guardiano e sua moglie e un altro paio di persone. Non si accorsero di me, ma erano molto occupati attorno alla macchina. Poi all'improvviso sentii un grido di dolore. «Il peso è su di lui! Sollevatelo piano!» gridò una voce. «E' solo la mia gamba!» disse un altro che riconobbi essere Perkins. «Dov'è il padrone?» gridò. «Ecomi!» risposi, ma sembrava che non mi sentissero. Erano tutti chini su qualcosa che giaceva davanti all'automobile. Stanley mi posò una mano sulla spalla e il suo tocco fu indicibilmente rassicurante. Mi sentivo leggero e felice, nonostante tutto. «Nessun dolore, ovviamente!» disse. «Nessuno!» dissi. «Non c'è mai!» disse. E poi, improvvisamente, fui colpito da un'ondata di stupore. «Stanley! Stanley!» «Ma come?» «Stanley era sicuramente morto di enterite a Blonfontaine nella guerra Boera!» «Stanley!» esclamai, e le parole parvero strozzarmi singola. «Stanley! Tu sei morto!» Mi guardò con lo stesso vecchio gentile sorriso malinconico. «Anche tu!» rispose.